Buongiorno a tutti, sono Luciano Masseroli, management director Automa in Russia, China. Siamo a Shanghai, presso CIMAT Asia, esibizione internazionale. Quest'anno Automa, come tutti gli anni, è presente a questa esibizione molto molto importante e Automa presenta l'autosap, un'ultima possibilità, presenta il mover, il supercap, il rush mover. Ringraziamo tutti per la visita che ci hanno fatto, siamo molto ottimisti. Malgrado la situazione di difficoltà per gli esibitori, per gli esibitori, per le procedure in Cina, si continuerà la pandemia, però siamo molto molto ottimisti. Ringrazio tutti, buona domanda.